buongiorno adesso vi racconto una bella storia ieri era il 31 dicembre ok e praticamente io dovevo andare a prendere la nonna sua casa verso le sette sette e mezza perché almeno veniva giù a cenare ok io stavo preparando la lasagna e cosa succede vado a fare la doccia stava piovendo c'era un tempaccio c'era tutto buio e dico faccio la doccia mi cambio e vado su a prendere la nonna quando esco dalla doccia sento fuori di casa una voce conosciuta che grida dopo c'ho le allucinazioni la nonna da casa dove la devo andare a prendere sta urlando io la sento esco mi vesto dopo due tre minuti cosa sento di nuovo vado fuori c'era la tempesta perché stava venendo giù il finimondo chi si è fatta tutta la strada da sola al buio senza cellulare e con un ombrello e un bastone che poteva accadere e non se ne accorgeva nessuno ha sbagliato la nonna la nonna sbaglia sempre la nonna la nonna sbaglia sempre e poi il davide la sgrida e ha ragione ha ragione